Allora, iniziamo subito Col dire che ad oggi non cambia molto Vero è che di iOS ce n'è uno E di Android o comunque di interfacce Android Ce ne sono cento e anche di più Ma di base i due sistemi sono avvicinati veramente tanto E come sempre non c'è il migliore in assoluto Eh ma no Android ci faccio me ma ci sono gli appicati Mamma mia ma siamo lì Non è vero che diciamo ci sono tutte queste differenze esagerate Se proprio vogliamo trovare una cosa che Ancora oggi mi porta un pochettino così a pensare Sono gli aggiornamenti Ditemi tutto quello che volete Però secondo me iPhone o comunque Apple Lato aggiornamenti è un attimino più sicura È vero che i brand stanno migliorando Stanno lavorando su questa cosa Hanno capito che devono supportare a lungo termine i dispositivi Tutto quello che volete Poi sapete le solite cose Però secondo me si può migliorare Si può lavorare un attimino di più sotto questo punto di vista Detto questo però Siamo calmi un attimino Divertiamoci E parliamo adesso di cose belle di Android Di cose che diciamo mi hanno proprio dato delle soddisfazioni Perché ve ne ho già parlato Questo ormai è il mio smartphone di lavoro Il mio secondo dispositivo Quello che supporta un attimino il mio iPhone E che utilizzo per fare foto Video vlog Che utilizzo per provare tutti i giochi Le applicazioni per Android Non solo Cioè qui c'è una sim E lo utilizzo quotidianamente E lo utilizzo anche come hotspot Diciamo in generale Ed è un dispositivo che in realtà Stresso veramente tanto E diciamo che Il passaggio da iPhone Comunque da due iPhone Essendo comunque nell'ecosistema A un Android In questo caso S23 Me l'aspettavo un attimino più Non lo so Non dico complicato Però magari Mi aspettavo di sentire la mancanza di qualcosa Di sentire la mancanza per esempio di Airdrop Comodissima funzione Che tu entri Attivi il Wi-Fi Quello che è Ti invi i file in due secondi senza capi Ah che comodità Vero? È comodissimo Ma Quante volte si scollega E quante volte sbagli Esci da una cosa E boom Non riesci a inviare tutti i file Quante volte non si Per esempio il Mac non legge L'invio e dice Errore, errore, errore Abbastanza Non sempre C'è da dire Non sempre perché è un servizio Una funzione essenziale Molto comoda Però spesso Non è che è proprio fantastica E quindi Avere la possibilità Di prendere il cavo Type C Che ancora non c'è qui su Appunto iPhone E collegarlo al Mac In due secondi E tramite un'applicazione Bello avere tutte le cartelle Ordinate con i file Eccetera eccetera E passarsi i file Così in maniera Super comoda Ha fatto la differenza Mi sono perso per un certo punto Perché qui ho la schiera Però vabbè Comunque è veramente efficace Come cosa E funziona bene C'è poco da dire L'invio Con quel trasferimento Di file Eccetera eccetera E' una cosa Comodissima E posso anche copiare Ingollare file Lo utilizzo quasi Come una chiavetta pure Ed è una cosa Proprio spettacolare Ed è molto comoda Quindi Airdrop Mi è mancato Sotto certi punti di vista Non vi posso dire di no Sì però Si può fare tranquillamente A meno Cioè per esempio Se voi volete comprare Un Mac E magari Proprio odiati IOS Ma vi piace Il MacBook Io vi direi State tranquilli Cioè si può andare avanti Senza alcun problema Detto questo E andando avanti Un'altra cosa Che mi è piaciuta E che ha fatto la differenza Per come proprio Utilizzo io Appunto Lo smartphone È il multitasking Ditevi tutto Quello che volete Adesso lasciate un attimino Da parte La possibilità Qui con Samsung Di avere Il pannello Edge E l'accesso Alle applicazioni Quando e dove vuoi Di mettere Diciamo Le applicazioni Split screen Di mettere L'app in finestra Di trascinare L'app dove vuole Qui veramente Ci sono un sacco di funzioni Samsung Lato multitasking Secondo me Lavora veramente Bellissimo Però Proprio Il banale La banale operazione Di inviare un file Sul telegram Uscire dall'app E continuare a fare altro Fa tutta la differenza Cioè Apple Comunque iPhone Quel che è Deve migliorare Sotto questo punto di vista Perché si può fare Il problema è che Non si capisce Perché La ramme le cose Bonze sale Tutto quello che volete Però Si può Fare Si può migliorare E questa differenza Ad oggi Si sente Veramente Veramente Tanto Almeno secondo Il mio Moltissimo parere Poi fatemi sapere La vostra qui sotto Nei commenti A me piace Veramente tanto Questa possibilità Di Android Senza contare che Una cosa che ho notato Particolarmente E che Passare Comunque da un dispositivo All'altro Cioè per esempio La settimana Finita la settimana Di test super stress Per lui Sono andato Ad iPhone Come smartphone principale Tornare indietro Di così Non è Non è semplice Ci prendi l'abitudine In due secondi Ad uscire da qualsiasi applicazione Con una gesture Di lato E via Con l'indietro Invece Con l'iPhone Una volta devi uscire sopra Una volta puoi uscire Con lo swipe Una volta devi favo così Una volta devi favo lì Diciamo che questa incertezza Grafica Nei movimenti In generale Non è proprio perfetta Si può migliorare Anche sotto questo punto di vista Le gesture qui Sono più Non affidabili Però sei sicuro Che alla fine Quella è E non è che cambia Ed è una meraviglia L'utilizzo quotidiano È veramente super comodo Poi queste dimensioni Che ve lo dico a fa Ve ne ho parlato già Di questo dispositivo Senza contare poi Che un'altra cosa Che ho notato tantissimo Nel quotidiano È proprio Alcune operazioni Inutili Che dovete fare Per forza Con iPhone Un esempio Io devo andare Dal pannellino Qui in alto Nelle impostazioni Del Wi-Fi Su iPhone Devo abbassare La tendina E effettuare Un tap prolungato Per accedere Poi alla parte Dell'impostazione Del Wi-Fi E effettuare Un tap prolungato Sul Wi-Fi Se non è attivo Lo devi pure attivare E poi Impostazioni Wi-Fi Qui Tap prolungato Tapp prolungato Su Wi-Fi Entro nell'impostazione Attivo o non attivo Non importa Due secondi Ci vogliono due secondi Perché non farlo Cioè perché Devo fare tutti questi passaggi Stupidate magari Può essere Può essere Però Sono cose che Nel quotidiano Ti velocizzano E per chi come me Sta sempre lì sopra Nelle impostazioni Per cambiare Rete Wi-Fi Tutte queste cose qui E vedere il consumo E tutte queste cose qua È veramente comodissimo Io ho una connessione pessima E devo sempre smanettare Un po' Nelle impostazioni E qui Ci metto due secondi Adesso non è che lì ci metto Un'ora e un quarto No Però su quei passaggi Quella cosa che nel quotidiano Potete percepire Poi ve l'ho detto Ragazzi siamo Siamo lì Ormai Il passaggio Si fa senza problemi Anche per quanto riguarda Le chat Whatsapp Ormai si riesce a fare In due secondi Non è quello il problema Ci sono diversi video online Magari fatevi due ricerche Ma non è questo appunto Il punto generale Della cosa Ad oggi Effettuare il passaggio Da iOS Android Android Non è così Tragica La situazione non è così Tragica Anzi Devo dire che Appunto Come detto un po' all'inizio Come ho visto anche in diversi video Un po' online Diciamo Ho trovato conferma Di quello che Pensavo Alla fine Questo copiarsi Di funzioni Eccetera eccetera O comunque Prendere ispirazione Da una funzione E l'altra Ha portato appunto I due sistemi Ad avvicinarsi A prendere il meglio L'uno dall'altro E a migliorare In generale insieme Il che è veramente Più che positivo Certo Di qua Per quanto riguarda Le personalizzazioni Siamo ancora un passettino avanti Con i widget interattivi Tutto quello che volete qua Proprio Android È una cosa eccezionale Però Per il resto Ci siamo Ci siamo Secondo me Sono questi i punti principali Diciamo che Vanno inseriti O comunque quello che effettivamente Ho notato io nel quotidiano Poi fatemi sapere voi Qui sotto nei commenti Cosa ne pensate No? Se avete uno smartphone Android Cosa preferite del sistema Se avete un iPhone Cosa preferite di iPhone Detto questo qui Ditemelo O comunque scrivetele Qui sotto nei commenti Detto questo Per concludere Volevo parlarvi un po' Di questo qui Dopo un mese Quindi di S23 Non vi dico troppo Vi dico solo quello che effettivamente C'è effettivamente da dire No? Che è interessante da sapere Partiamo dal fatto che Mi avete detto che Con un aggiornamento Le fotocamere Dovevano migliorare Che mamma mia Deve aspettare già me È cambiato di poco Nulla di pazzesco Faceva delle buone foto Prima Le continuo a fare ora E senza alcun problema Se devo fare un confronto Lato video Continuo a dirvi che Comunque Lato stabilizzazione Poi nel quotidiano Questa cosa l'ho notata Un attimino di più Lato stabilizzazione Eccetera eccetera Di qua Rispetto ad iPhone 14 Pro Si sente un po' la differenza iPhone un attimino avanti E soprattutto È più affidabile Proprio a Prendere durante il video A bilanciare Un attimino il tutto Nulla di assurdo Però comunque Sono quelle piccolezze Che nel quotidiano Potrebbero fare la differenza O comunque Magari sono io Che sono abituato Alla Pazza Alla qualità Grafica Al Diciamo Al controllo generale Dell'immagine Di Apple Poi fatemi sapere Anche voi La vostra Qui sotto Poi abbiamo detto Più e più volte Che il confronto Si dovrebbe fare Tra 14G Pro E S23 Ultra Io però C'ho l'S23 Parliamo di compatti E va bene così Detto questo Un'altra cosa Interessante Per quanto riguarda Quest'ultimo E che molti Avete scritto Soprattutto su YouTube E anche su Instagram Proprio per chiedermelo Riscontrano un problema Con la fotocamera principale Che in poche parole Dà problemi Lato messo a fuoco Sinceramente Ho letto anche Un po' i forum Ho visto un po' online Esiste Questa cosa Ormai è presente Però io non ho Questo problema Anzi Fa delle ottime foto Vi ripeto Quindi nessun problema Non ho riscontrato Veramente nulla Ho fatto diversi test E va più che Più che un amore Quindi bene così Batteria Ancora oggi Vi dico che Io la approvo Mi piace veramente tanto Funziona molto bene Il che non è assolutamente Sottovalutare Per un dispositivo Così compatto E soprattutto Per quanto riguarda Samsung Con questi qui Ha sempre fatto un po' Alti e bassi In generale E per il resto Vi posso dire una cosa Che ho riscoperto Cioè che ho utilizzato Sto utilizzando effettivamente Per la prima volta Forse al meglio La ricarica inversa Io metto questo qui Sulla scrivania In sottocarica In sottocarica magari Mentre ho il router attivo Eccetera eccetera E sopra Gli appoggio Le airpods Che è un po' Strana da fare così Però gli appoggio Le airpods Gli appoggio Le natti E si caricano Si alimentano Tutte e due Senza problemi E' proprio Una godurice E' comodo Perché così Sparmi un cavo Sparmi una cosa E può essere utile Effettivamente Non mi nascondo Che mi piacerebbe Avere Questa funzione Un po' Un po' Un po' Perché è veramente Super super comoda Non me l'aspettavo Ma lo sto utilizzando Veramente Abbastanza In generale Abbastanza Quindi top Questo è quello Che vi volevo dire Questa è un po' La mia esperienza Vi ho detto proprio La mia così Abbraccio Qui ho un po' Di punti Che in realtà Abbiamo già analizzato Quindi fate sapere La vostra qui sotto Nei commenti E per questo Esperienziale Questa chiacchierata E tutto Comprate quello Che vi piace di più Perché alla fine Vi ripeto Siamo lì Ormai siamo lì Cambia veramente poco Forse ancora oggi C'è questa cosa Delle applicazioni Che so che sono meglio Però comunque Sono a pagamento Quindi Dipende un po' Così A pick up Siamo lì Siamo lì Siamo lì Poi Ditemi la vostra Qui sotto Ciao